Ragazzi ragazzi, buona vista dal vostro actore radio da Pegna Alguera, Spigliosa e Spagnola. Wuhuuu, tutti ragazzi, tutti voi del calcio, il sport più bello del mondo. E oggi siamo qui per le probabili formazioni dell'Italia, con della Turchia. Pronti? Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Di Marco, Giorginio, Vistan, Dorsolini, Pedrini, Chiesa e Retechi. Per la Turchia invece importa Kakir, divisa con Selic Demir, Alkabako, Zbacar, Moccan, Kokcu, Ildiz, Czernoglu, Artur Koklu e Yimmaz in attacco. Queste sono le proprie informazioni, il primo pronostico è il seguente. Secondo me, a partire da uno più gol di Coppa Italia vincere 2-1, ovvero 1 e mezzo più gol di Coppa Italia vincere 2-1. Questo è il pronostico. Quale posso scrivere con quel di qua sotto nella comanda? Ci vediamo più tardi per vedere come sarà finita la partita. Buona la prima con la lingua di Giacosti Moschettina. Presto, buona la prima.